Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, scusate se non è la stessa, ho già fatto il video di Pescara Prepineto, abbiamo già parlato in quel video del mercato del Pescara, parlare un pochino del mercato di Sarecci in generale, a Gironia, partiamo, Vicenza ha comprato delle monache, non è che voglio di tutti gli acquisti, ne dico uno magari per squadra, magari per alcune scusate ma le salto, delle monache del Vicenza, ha firmato quando era andato dal Pescara alla stampa, allora è andato a Vicenza, poi Girone e Via, non so che ho detto solo Vicenza ma è quella che mi sono informato di più, poi Pescara contro Pineto, Pineto poteva cedere Volpicelli, ha comprato presa a Nipoli, all'Avellino poteva cedere Volpicelli, alla fine se l'è tenuto a casa, dall'altra parte, che dire, che posso dirvi, Catania nel Gironia ha comprato Cicirelli, chi dico non l'ha ceduto, anche Teio dal Benevento, Costantino dal Monterosi, Bruzzese, Perugia, adesso mi informo perché Perugia è una di quelle squadre più importanti, quindi, l'arco di informarmi, non so nulla, è Perugia. Licunas, Giunti, Pratrignani, Agosti e Bezzichieri, Cutrig, Romangino e Polizzi, non so se qualcuno era un giovane oppure era un panchinato che non giocava mai, comunque ho ripetuto dei nomi. Gubbio, Corsinelli, Casolari, Casolari, no Corsinelli già ce l'aveva, mi sa, non lo so, Bumbu mi sa che di no, Bernadotto mi sa che se l'è comprato l'attaccante, Exteramo, se non mi sbaglio, poi anche Chierico, Rosaria, Brambilla e Di Marco, se non mi sbaglio, Vispesaro. Ho segnato il Venezia, pareggio, uno pari, match per la superandestina, Zagnoni, la Vispesaro che penso ho comprato, Martins, Gesù, Speixoto, Mamona, Molino, Iervolino, Iervolino, l'Iervolino ce l'aveva già, Iervolino, quell'altro scema, il presidente della serenità, ne poi Neri. Per il resto, vediamo Juventus, Ancona, parliamo del mercato, vediamo Lorenzo, Angale, non li so, Gio, parliamo più magari dell'Ancona, non meno dell'Ancona, ma che so così tanto, mi sa Radicchio, che cazzo ne so io. Poi, Deramo, se non mi sbaglio, Basso, Sacco, Cioffi, Criston, Feren, Energia mi sa che non ce l'aveva, Usaini e Moretti, parliamo invece poi di, del Cesena, ormai io non comprerei nessuno, ma mi sa che qualcuno l'ha comprato, penso. Vediamo un po', penso Piacentini, non lo so, Pitti, Zamagne e Trocchia, Chiarello, Giuseppe, Berti, mi sa Tommaso Berti, no, Francesconi, mi sa di sì, Antonio David, penso che sarebbe compiato, Gianmarco Castori, penso un altro acquisto, Ceme, Pedelli, poi Becorazza, Carbono, Nannelli, mi sa, Amadori, Covedi e Tampieri, poi vediamo la torre, non mi fa andare sulla rosa, non lo so, scusate. Aspettate, mi fa andare sulla rosa, scusate che forse si è comprato dalla Virtus, sentai la clemenza, e poi non lo so di più, le canatese, c'era già Marchiorri, però già non dice più nulla, questo è uno dei video forse più, no, Patroni, c'è di Gironi, c'è un po', la Juve Stabia, Bacchini, se non mi sbaglio, Adorante, Folino, Andreoni, Erradi e Mosti, penso, non lo so, poi Benevento, secondo me lo sta Rita, Lanini, due che dovrebbero essere i Bomber, poi Nardi della Reggiana e poi, da cazzo, non mi ricordo, poi non lo so, Brindisi non lo so veramente, ultima donna, non lo so, ha ceduto, mi sa la peticcione, Delrico, mi sa che ha preso, ciao bella raga, finisco così sto video, ciao!